Ritorna la rubrica con Mauro Bonaiuti la mattina con il DT, è il giorno della partita, si va a Milano, passo indietro fondamentale, ultima partita una vittoria e la quarta consecutiva con San Vendemiano come maturata. Teniamo stretti di due punti con San Vendemiano però non è stata una grandissima partita perché dove dobbiamo migliorare la continuità difensiva nei 40 minuti perché abbiamo visto che difendendo siamo andati subito sopra, poi in un attimo ci hanno ripreso, poi abbiamo ridifeso, con squadre più consistenti si può fare più fatica, il miglioramento della squadra deve avvenire soprattutto quello in concentrazione nei 40 minuti. Come hai visto la squadra nella settimana di allenamenti che ci porta alla partita di stasera? Questa settimana al completo da mercoledì che abbiamo ritrovato anche Matteo Soragni a allenarsi con 10 persone competitive è tutta un'altra cosa, speriamo di averne sempre 10 da qua in poi però ti confermo che è stata una buona settimana. Arriviamo anche di Milano, un'avversaria che è alle prese con diversi infortuni, che partita ti aspetti? Sono sempre quelle squadre pericolose perché hanno tanti infortunati, magari faranno tanta zona, si chiuderanno tanto e quelli che giocano meno si vorranno far vedere. Sono partite molto insidiose, poi là è sempre un campo difficile, loro hanno giocatori importanti come Ferrarese e il nostro ex Paleari che ha giocato qua con me qualche anno fa. Da non sottovalutare assolutamente perché in questa categoria può fare la differenza. Che effetto fa ritrovare un ex compagno quando tu hai cambiato ruolo, lui veste un'altra maglia, che effetto fa? È strano però, no mi fa piacere rivederlo perché comunque quasi siamo, è il primo anno che sono venuto, mi sono trovato molto bene con lui e come ti ho detto prima in questa categoria a gente come il suo talento offensivo di passaggio e di tecnica ce n'è poco, dobbiamo stare molto attenti. Uno sguardo anche al futuro più immediato, in una settimana si giocano tre partite per corso di avvicinamento a quella che probabilmente è la partita più importante del giorno di andata, la sfida con 100, come ci si arriva? Si si arriva vincendo stasera, confermando con Iseo e poi arriviamo carichi per la partita di 100 perché è una partita che ci tengo molto ma penso anche tutta la città, la società ci tiene tanto. Però prima dobbiamo queste due partite, poi da giovedì dopo Iseo penseremo a 100 però sono due partite importanti per ritrovare quella concentrazione in tutti i 40 minuti. Te lo voglio confermare perché il salto di qualità lo faremo lì.